Allora, a me sembra che il tavolo di Eno ha rappresentato due evidenze. La prima, che per quanto riguarda la gestione dei commissari e quindi anche il cosiddetto piano di partenza, la strada sia un po' a senso unico anche per quanto riguarda la CIGS, vista l'elenco e la spiegazione dettagliata che c'è stata fatta oggi per quanto riguarda la situazione degli impianti e la necessità di dover necessariamente garantire alcuni interventi, quindi dovremmo chiamarlo più che piano di ripartenza, piano di messa in sicurezza. Questo aspetto ovviamente deve essere allineato con quello che sarà l'aspetto del futuro dell'azienda e che noi poniamo come elemento centrale, abbiamo posto come elemento centrale oggi al tavolo, perché è chiaro che il bando di vendita e le condizioni e le garanzie che saranno richieste all'eventuale acquirente sul bando di vendita diventano l'elemento centrale di questa vicenda. Quindi c'è una gestione che è quella dei commissari che riguarda le tempistiche fino al 2026 che devono garantire la ripartenza di tre alti forni, però è necessario che nella discussione col governo cominciamo a capire per davvero quali saranno le condizionalità e le richieste che vengono poste a chi va ad acquisire lo stabilimento. Questo l'abbiamo detto come elemento centrale, abbiamo posto chiaramente il tema dell'occupazione, abbiamo posto il tema di cosa significa oggi fare la decarbonizzazione e se c'è e in che modo c'è la questione dei forni elettrici, abbiamo posto chiaramente la questione di come si tiene dentro al piano gli Ilvain S che sono 1600, stanno in cassa integrazione da moltissimo tempo e sono lavoratori oltre a quelli che stanno dentro lo stabilimento su cui noi chiediamo risposte. Chiaramente c'è il tema dell'indotto e degli impatti che riguardano non solo ovviamente lo stabilimento di Taranto ma anche gli stabilimenti di Genova, di Cornignano e abbiamo su questo chiesto la tenuta unitaria degli stabilimenti, cioè noi non vogliamo spezzatini tra stabilimenti per quanto riguarda l'operazione di vendita e questo è un tema centrale che noi abbiamo posto oggi.